Buonasera, è un grande piacere che ci ritroviamo stasera a fare un non classico di tipo milanese, ma un classico Digital Doc. Mi fa piacere ritrovare, spero che siate tutti molto bene e mi fa veramente piacere stasera avere una sorta di Digital Doc di grande qualità, come al solito di grande importanza e rilevanza, soprattutto in questo momento. Stasera parliamo dell'Italia che verrà tra innovazione e capitale umano. Ne parliamo con il dottor Enrico Cereda, gli ho già fatto i complimenti per il nome, che è l'amministratore delegato di IBM Italia. Il dottor Cereda ha una grande esperienza in tutto quello che è il mondo digital, non soltanto sugli aspetti software, ma anche sugli aspetti hardware e sono stato in passato, tra le altre cose, anche vicepresidente della parte Systems and Technology di IBM Italy. Mi sono ripromesso di non dirvi tutto il curriculum del dottor Cereda e del professor Sianesi, perché sennò dopo quello ci sarebbero i saluti, invece l'intenzione era quella di farli anche parlare. Infatti passo subito a presentare anche il professor Andrea Sianesi, che è un nostro professore, il nostro professorone del Politecnico di Milano, il professor Sianesi, penso che molti di voi lo conoscano già, è esperto di gestione dei sistemi logistici e produttivi ed è della supply chain management in termini generali. Anche per lui direi riduco al minimo il curriculum, citando ovviamente il suo grande impegno nella School of Business del Politecnico di Milano, il MIP, in varie vesti, sia come docente, sia come direttore di diversi programmi, compreso anche il fatto di averlo presieduto per parecchi anni, fino al 2019, quando è stato cooptato invece alla presidenza della Fondazione Politecnico di Milano dal gennaio del 2020. Quindi è il nostro presidente della Fondazione Politecnico di Milano. Buonasera Andrea, buonasera dottor Cereda. Buonasera a voi. Saluti a te. Buon piacere che abbiate accolto il nostro invito. Io romperei gli indugi, diciamo, sollecitando una vostra visione e riflessione, su un primo tema legato alla pandemia, che ha accelerato la necessità di ripensare il Paese anche assieme ai suoi modelli produttivi e industriali. Ecco, se volete inquadrare un momentino la vostra visione rispetto a questo ripensamento, ascoltavo anche ieri alla televisione qualcuno che pensava di, in qualche modo, pensa in qualche modo di strutturare l'Italia come un centro, diciamo, di accoglienza bello e culturalmente valido per tutti quelli che possono lavorare a distanza, perché tanto qui si sta bene, la qualità di vita è eccezionale, da voi si può fare a distanza. Ecco, però poi c'è tutto un mondo produttivo e industriale che ha bisogno di modelli che lo sostengono. Voi, come vedete, questo aspetto, tenendo conto dell'innovazione, del capitale umano, che sono le nostre risorse per cambiare le cose. Cominciamo dal dottor Cereda. Allora, di nuovo grazie e saluto tutti, naturalmente, i partecipanti a questo meeting. Ma, come lo vediamo, la pandemia è inutile discuterne e discutere i problemi che ci ha portato e che ci sta ancora portando in questa fase, e lo dicevamo prima, anche prima di aprire tutti i collegamenti, chissà anche per quanti altri mesi avremo a che fare con questa crisi sanitaria. Però, detto questo, quello che abbiamo visto nel corso degli ultimi mesi è che probabilmente la pandemia sta accelerando un processo di trasformazione del nostro paese, o perlomeno questo è l'augurio. Meglio, quello che abbiamo visto nel corso degli ultimi mesi è che le aziende, si è parlato in questi ultimi mesi di smart working. Ecco, a me piace più parlare di remote working, non di smart working, e adesso anche dico la differenza. Smart working, secondo me, siamo già in una fase in cui tutte le aziende saranno digitalizzate e naturalmente potranno far leva sulle tecnologie abilitanti, quale la blockchain, quale il cloud, quale l'intelligenza artificiale. Noi siamo ancora in una fase remote working. Io quello che ho visto negli ultimi 6-8 mesi è che le aziende hanno permesso, la maggior parte, non tutti, pensiamo alla pubblica amministrazione, ma non solamente la pubblica amministrazione, hanno permesso di far lavorare i dipendenti da remoto, però poi i processi sono rimasti ancora allo stato attuale, quindi magari alcuni dirigenti erano costretti, sono costretti ancora adesso, a recarsi in ufficio per firmare i documenti. Quindi abbiamo visto un'accelerazione minima, secondo me, nel corso degli ultimi mesi della trasformazione digitale. Ecco, c'è ancora tanto da fare, su questo non c'è dubbio e probabilmente di nuovo la pandemia accelererà questo processo di trasformazione del nostro paese. E quindi su quello che dovremmo far leva, a mio avviso sono due aspetti fondamentali. Lo dico naturalmente come amministratore legato di BM Italia, un po' sono di parte. L'innovazione, la leva tecnologica è naturalmente una parte fondamentale. Ho accennato prima, intelligenza artificiale, cloud, blockchain, sono tutti componenti fondamentali, abilitanti, tecnologie abilitanti per nuovi modelli di business, in qualsiasi settore. E lo stiamo vedendo anche qui in Italia con dei casi concreti. Ma l'innovazione tecnologica di per sé non basta, serve capitale umano. Io sono la fortuna in questo momento di essere con gli alumni del Politecnico di Milano, capitale umano, Politecnico di Milano, penso che non ci sia di meglio in Italia. Ecco, il capitale umano è quello che effettivamente ci permette la trasformazione del nostro paese, abbinandolo naturalmente con le potenzialità della tecnologia. Ma di nuovo la pandemia sta accelerando questo processo e quindi l'unione di innovazione e capitale umano, ma c'è ancora molto, ma molto da fare. A te Andrea. Grazie. Beh, è difficile non essere d'accordo con quanto ha detto Enrico, ma io volevo rifarmi a un concetto che sono andato a riguardarmi recentemente, ho scoperto che è stato cognato nel 1987, che è l'acronimo VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Ecco, io penso che su tutte queste quattro dimensioni, che nel 1987 probabilmente si viveva in una modalità molto più tranquilla, eppure già allora c'era chi parlava di VUCA, e su tutte queste quattro dimensioni la pandemia ha dato un'accelerazione veramente formidabile, che non è un aspetto positivo, ovviamente, perché abbiamo accelerato la volatilità, abbiamo accelerato l'incertezza, la complessità, l'ambiguità intesa come la necessità di dover, ovviamente non l'ambiguità personale, ma l'ambiguità intesa come necessità di dover prendere decisioni senza tutte le informazioni. Ecco, questo io quindi lo vedo come la grandissima sfida, è ovvio che io non posso che essere d'accordo, se no non farei questo mestiere, quello sull'importanza del capitale umano, però volevo rafforzare il concetto un attimo dell'innovazione. Allora, noi abbiamo visto una cosa tutto sommato positiva, l'infrastruttura tecnologica del paese ha retto, quindi noi siamo riusciti ad andare in remote working, come correttamente dice Enrico. Siamo probabilmente molto indietro, anche qui non vorrei generalizzare, però in alcuni settori siamo probabilmente indietro in termini di skill e quindi di capacità di utilizzare poi quello che la tecnologia oggi ci mette a disposizione e nei processi, quindi ogni giorno sul giornale si legge qualche voce critica su come qualcuno è stato andato in ritardo, su come certi processi non sono arrivati a compimento nei tempi normali, mentre altre imprese hanno switchato quasi istantaneamente da una modalità face to face a una modalità remoto o smart. Ecco, io penso che questo sia estremamente importante e penso che per una volta sia qualcosa che non caratterizza soltanto l'Italia. Io penso che tutto il mondo occidentale stia oggi vivendo quello che è un po' un paradosso dell'innovazione, cioè noi siamo in una situazione in cui non abbiamo ancora la capacità di scaricare a terra la potenza di quello che la tecnologia e l'immenso mare di dati che abbiamo a disposizione ci permetterebbe di fare. Adesso, senza fare polemiche su tutto quello che riguarda l'aspetto sanitario e quindi la raccolta dei dati, che probabilmente potrebbe essere sicuramente molto più automatizzata rispetto a quanto è oggi, però questo è qualcosa che caratterizza di fatto tutto il mondo occidentale. Io penso che il motivo per cui in Oriente, non parlo soltanto della Cina, tutta l'Asia, sta affrontando in un modo molto più robusto la risposta a questa pandemia è proprio per il fatto che loro hanno dimostrato una maggior capacità di sfruttare quello che la tecnologia mette a disposizione. E quindi probabilmente abbiamo un po' da rincorrere nei prossimi mesi per riuscire a sfruttare quello che oggi è disponibile. Grazie, grazie a entrambi. Peraltro ne approfitto adesso anche per dire a tutti i partecipanti che se vogliono porre delle domande possono scriverle sulla chat e poi noi cercheremo di porre le domande ai nostri cari relatori. Quindi alcune cose molto importanti che avete toccato, tra cui appunto questa accelerazione della trasformazione digitale è spinta molto dalla tecnologia, con esigenza di preparazione, a questo punto formazione accelerata del capitale umano. Ecco, in questo senso diciamo, da un lato vedete dei rischi di transizione legati alla trasformazione digitale, direi nel mondo industriale, per non arrivare poi anche al mondo sociale. Il passaggio a una forte componente digitale di tutto il mondo industriale può comportare dei rischi nella transizione che magari è difficile anche immaginare, perché comunque cambiano effettivamente i modelli produttivi, cambiano i meccanismi industriali. E dall'altro lato, questi rischi o queste difficoltà dell'accelerazione potrebbero essere, diciamo, dei rischi che portano a un rallentamento, un blocco della trasformazione, oppure che hanno proprio dei danni conseguenziali che possiamo anche non immaginarci completamente. Però ecco, questi rischi possono essere anche magari in qualche modo accresciuti da una preparazione non completamente adeguata, da una formazione non completa su questi aspetti. Allora, è un ottimo punto questo, se posso fare un commento qui, professore. Allora, a mio avviso innanzitutto è una transizione, è vero, è una transizione, ma soprattutto è una transizione che va governata. Ecco, questo è a mio avviso la cosa importante. Naturalmente la formazione, non solamente dei nuovi entranti nel mondo del lavoro, ma di tutti i lavoratori, è fondamentale. Faccio un passo indietro prima di affrontare questo argomento. E forse perché ho la visione positiva, bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto. Ecco, questa pandemia, di nuovo, ci ha portato tantissimi danni, e di nuovo, e lo stiamo vedendo ancora oggi, no? Però anche prima della pandemia, a livello economico, a livello sociale, non è che il nostro paese navigasse in acque bellissime, no? Da questo punto di vista, no? Quindi, se guardavamo a gennaio, a inizio febbraio, il prodotto interno lordo, la disoccupazione, comunque dei dati economici, il nostro paese non era messo benissimo. E allora probabilmente dobbiamo prendere di nuovo questa crisi sanitaria, che naturalmente poi è sfociata a livello economico, e lo stiamo vedendo anche in questi giorni, crisi sociale, come un'opportunità. E questo io ne sono convintissimo. Il nostro paese potrà fare grandissime cose, si saprà sfruttare bene e velocemente questo periodo. Bene e velocemente come? Di nuovo, innovazione e capitale umano. Formazione. Il professore ha toccato un tasto fondamentale. Ci sarà una fase di transizione verso, chiamiamolo, un mondo nuovo. Ho letto dei numeri per prepararmi a questo meeting del World Economy Forum. Il 42% dei lavori probabilmente nei prossimi pochi anni verrà trasformato completamente, grazie alle nuove tecnologie. E lo vediamo tutti i giorni, quello che stiamo assistendo. E allora come fare? Innanzitutto, a mio avviso, ci dovrebbe essere un grandissimo patto tra pubblico e privato. E questo è fondamentale per far crescere il nostro paese, per far uscire il nostro paese da queste acque. Un patto pubblico-privato sulla formazione, anche sulle industrie su quale puntare, sulle industrie quale puntare, i settori merceologici, quale puntare e naturalmente formare le nuove persone anche grazie poi a una visione di medio-lungo termine. Un patto pubblico-privato. Noi abbiamo lanciato alcune iniziative in IBM Italia nel corso degli ultimi mesi, nel corso degli ultimi 12-18 mesi. Pitec, Taranto, stiamo lavorando con le università del Sud Italia, della Puglia. Insieme stiamo facendo una collaborazione per formare quelli che entreranno nel mondo del lavoro. Abbiamo già 290 studenti che li stiamo facendo fare un percorso chiaro, che lo portano dalla scuola media superiore e poi anche all'università. Questo grazie all'università di Bari. Però stiamo facendo anche dei programmi per le persone che già operano nel mondo del lavoro. Perché una volta forse si entrava nel mondo del lavoro e per 20 anni, per 30 anni, bastava fare il lavoro quotidiano e non apprendere del nuovo. O forse apprendere comunque con una certa periodicità. Oggi il continuous learning è fondamentale in qualsiasi attività che si faccia, sia un'attività soft, sia un'attività hard. Allora qui abbiamo lanciato un programma, si chiama RegNight, e stiamo lavorando qui anche in collaborazione con alcune aziende del paese per formare le persone che già sono nel mondo del lavoro. Quindi a mio avviso una collaborazione pubblico-privato sempre più stretta è fondamentale. Ma il tutto deve passare anche da una visione a medio-lungo termine, che cosa vogliamo del nostro paese. Sappiamo benissimo che all'interno del nostro continente europeo siamo la seconda manifattura dopo la Germania. Quali sono i settori su cui l'Italia vuole puntare? Naturalmente per poi formare la classe dirigente e non del prossimo futuro. Naturalmente dobbiamo aspettarci che l'intelligenza artificiale, il cloud, la blockchain cancellino oppure modifino completamente dei posti di lavoro. Questo sarà naturale come è stato naturale nelle precedenti rivoluzioni industriali. Però dobbiamo ammettere nelle condizioni di nuovo gli studenti e anche i lavoratori di essere formati e di nuovo a mio avviso quello che possono portare le grandi aziende locali o multinazionali del nostro paese è fondamentale, può dare un contributo importante anche al settore pubblico ovviamente. Abbiamo sentito il privato, sentiamo il pubblico. Andrea? Allora, ma io, ovviamente musica per le mie orecchie, ma volevo aggiungere un paio di commenti a quanto si è detto. Il primo è l'importanza delle risorse umane. Allora, adesso mi pare che fosse stato Churchill che durante la seconda guerra mondiale diceva un aeroplano lo costruiamo in non so quanto invece per fare un pilota ci vogliono vent'anni. Ecco, adesso non per volermi atteggiare a Churchill però io penso che noi oggi soffriamo anche più degli altri perché non abbiamo lavorato abbastanza nelle fasi iniziali. Cioè noi stiamo cercando adesso di mettere in piedi dei progetti abbiamo già fatto tutta una serie di progetti sul mondo STEM e cercando di coniugare le discipline STEM anche con la gender equality, quindi attirare poi alla fine più fanciulle sulle materie STEM. Ecco, io penso che questo sia un qualcosa irrinunciabile qualsiasi sia il progetto di ripartenza del nostro paese domani. Cioè o ripartiamo da lì, questo è il primo mattone, la pietra angolare altrimenti rischiamo di costruire qualcosa comunque che sarà ancora fragile. Allora, e questo vuol dire ovviamente, come diceva prima Enrico, c'ereda, non zio, una visione di lungo termine. Cioè noi vogliamo essere appunto quelli che accolgono, come diceva prima, l'altro Enrico, zio, un posto piacevole dove la gente viene a lavorare perché c'è un bel clima e quindi mentre è collegato col PC vede fuori il mare o la montagna, oppure vogliamo ancora giocarci una partita da grande potenza industriale e di tipo tecnologico. Se scegliamo questa seconda, e questo qui è sicuramente un tema di governance, di scelta politica, coraggiosa, che richiede coraggio ovviamente, se scegliamo questa seconda, secondo me la prima cosa che bisogna fare è investire dall'inizio, dallo stand. E qui ovviamente impensabile che il pubblico ce la faccia da sola, impensabile che lo faccia il privato da solo, perché ovviamente il ritorno forse è un po' troppo a lungo termine per il privato. E quindi qui diventa fondamentale riuscire a mettere insieme le due parti. La seconda cosa è, io prima Enrico Cereda diceva dobbiamo scegliere quali sono i settori industriali, e io sono veramente d'accordissimo su questo. È arrivato il momento in cui noi non possiamo più permetterci di disperdere a pioggia le risorse andando ad alimentare fondamentalmente chi che sia. E purtroppo questo è doloroso, ma dobbiamo fare delle scelte. Dovremmo fare delle scelte perché? Perché io che non sono magrissimo, ho il motto One size does not fit all, che nel mio caso si sposa perfettamente. One size does not fit all. Anche se pensiamo a come differenti industrie hanno sofferto, ma è all'interno della stessa industrie, come differenti segmenti di mercato della stessa industrie hanno sofferto, allora capiamo che probabilmente il fatto di dare incentivi a pioggia a tutti forse non è la cosa migliore. Quindi si rischia di dare dei soldi per comprarsi la macchina elettrica a chi si compra una Tesla, e che probabilmente non ne ha bisogno oggettivamente, e pochi soldi in meno a chi si compra una Panda, che invece magari ne ha bisogno per andare a lavorare. Allora, io penso che sia necessario a questo punto qui davvero chiedersi quali sono le industrie, quali sono i segmenti su cui noi vogliamo ricostruirci in qualche modo un po' una supremazia come paese, e andare a investire su quelli, che non vuol dire abbandonare gli altri, ma vuol dire riconvertire, vuol dire alla fine riconvertire. Prima che ci fosse la pandemia, noi passavamo non so quante ore a discutere se l'industria 4.0 avrebbe fatto perdere o guadagnare posti di lavoro. Adesso non se ne parla più, cioè di questo. Non è che non c'è più problema. Il problema è forse oggi abbiamo capito che grazie alla tecnologia, magari non è più necessario, se vogliamo avere costi bassi, andare a produrre in Cina, mentre è ancora necessario andare a produrre in Cina se vogliamo andare a vendere a un mercato di 1 miliardo e 400 mila persone. e quindi secondo me dobbiamo avere un po' il coraggio di scendere dalla superficie del problema e andare sotto, perché io sono convinto che se no, se non andiamo a scavare, a studiare bene, ad analizzare il problema, rischiamo di andare a disperdere delle risorse, che è una cosa che probabilmente oggi non ci possiamo permettere di fare. Posso fare un commento? Naturalmente d'accordissimo anch'io con i professori sianesi, soprattutto sul discorso STEM, ma naturalmente anche sulla scelta dei settori. A mio avviso due parole magiche, consapevolezza e convinzione. Noi pensiamo, noi o meglio, l'Italia ha molte più risorse di quanto ne percepisce. Io ho vissuto parecchi anni all'estero, poi sono tornato in Italia nove anni fa. Ecco, a mio avviso, in qualità di, in termini di capitale umano, in termini di risorse economiche, in termini di risorse industriali, in termini anche di risorse geografiche, turismo, eccetera, a mio avviso noi come italiani abbiamo molte più risorse rispetto a quelle che pensiamo di avere. Se uno vive un po' di anni all'estero, a mio avviso questo lo percepisce chiaramente e soprattutto quando parliamo di capitale umano. È tanto vero che il Politecnico, la Bocconi, tantissime altre università in Italia vengono invidiate a livello mondiale. E naturalmente, noi come IBM, questo lo vediamo tutti i giorni, quando poi, quando è la competizione dei talenti e quando è la competizione dei talenti vediamo che le persone formate nelle nostre università hanno una preparazione migliore rispetto alle persone che stanno all'estero. Poi naturalmente ci sono anche le opportunità del mondo del lavoro. Sicuramente qui le opportunità sono inferiori rispetto a altri paesi. Sicuramente qui abbiamo anche un problema, forse adesso sicuramente negli ultimi anni meno della lingua, che invece nei paesi nordici, piuttosto naturalmente nel paese anglosassone, nell'inglese naturalmente non è una barriera, non è un problema. Però a mio avviso consapevolezza e convinzione è quello che dobbiamo credere per puntare e fare un piano per il nostro futuro. Con consapevolezza e convinzione sono sicuro che potremmo porre le basi per un piano importante di trasformazione, di nuovo basato sul capitale umano e basato sull'innovazione tecnologica. Mi sembra molto interessante questo aspetto di... Ecco, rispetto a questo, con la consapevolezza delle risorse che abbiamo, che tipo di iniziative pensate di collaborazione pubblico-privato si possano mettere in atto o continuare, se già esistenti, a rafforzare proprio per colmare questo gap che dicevamo precedentemente per la formazione o sulla formazione del nostro capitale umano e per prepararlo ad utilizzare questi strumenti tecnologici in maniera continua per il proseguimento e lo sviluppo, direi, industriale del paese. Ma io lo vedo come azienda estera che opera in Italia. Io passo almeno un giorno alla settimana non a combattere con i miei competitors, ma a combattere con i miei peers, con i miei pari delle altre country, quindi con l'Enrico Cereda francese, con l'Enrico Cereda inglese e quindi l'attrazione degli investimenti in Italia. Allora, mentre gli altri peers, i miei peers nelle altre country hanno in molti casi comunque il pubblico che li sostiene e ci sono di nuove dei piani di sviluppo anche per le aziende estere nel paese, io qui vedo pochissimi piani, ecco, quando dico pochissimi ho una visione anche un pochettino ottimistica, pochissimi piani per incentivare le aziende estere. Conosco meno sicuramente per le aziende locali, per le aziende italiane, ma delle aziende estere a mio avviso si potrebbe fare molto facendo leva sulla capacità di investimento che hanno le aziende estere, facendo leva di nuovo sul capitale umano che abbiamo a disposizione nel nostro paese per cercare di non far uscire i nostri talenti e farle andare in altri paesi, ma per tenerli sul territorio. Questo è un piccolo esempio a mio avviso. Io tra l'altro sono anche nel comitato delle aziende estere di Confindustria e questo è materia di discussione direi settimanale nei nostri incontri, però questo è quello che si deve fare. Ci sono dei territori in Italia, pensiamo al sud Italia, dove c'è un'importante disoccupazione, ci sono tantissimi disoccupati. Ecco, fare delle politiche per attrarre investimenti da parte di multinazionali estere, qualsiasi settore ovviamente, potrebbe essere fondamentale. Abbiamo un sistema sanitario che uno lo può discutere, soprattutto in questo periodo, ma io avendo vissuto un po' di anni negli Stati Uniti vedo i lati positivi del nostro sistema sanitario, vedo meno i lati negativi, poi ce ne sono di lati negativi, ovviamente sì, ma ha anche tanti lati positivi. Ecco, la combinazione dell'information technology, dell'innovazione digitale, delle tecnologie esponenziali, quello che ho mencionato prima, l'intelligenza artificiale, la blockchain in cloud, abbinata a un settore importante come la sanità al nostro sistema sanitario, potrebbe portare benefici prima al nostro sistema sanitario, ma potrebbe essere anche da role model per altri paesi. Ci sono tanti esempi dove la collaborazione tra pubblico e privato potrebbe essere vincente nel nostro paese. Sotto vede proprio un richiamo all'opportunità di fare sistema. Assolutamente sì. E questo è l'esempio che per chi abita a Milano, per chi è vissuto a Milano, per chi è nato a Milano, lo si vede sul nostro territorio, nella nostra città, la capacità di fare sistema del pubblico, del privato, delle grandi famiglie imprenditoriali milanesi, la capacità di fare sistema in Milano è unica, ed è unica anche naturalmente poi la crescita che ha avuto Milano negli ultimi mesi. Ecco, questo modello, a mio avviso, di fare sistema pubblico-privato dovrebbe essere espostrato non solamente all'interno della nostra regione, in Lombardia, ma su tutto il territorio nazionale e portare delle politiche, a mio avviso, che vanno a indirizzare anche incentivi piuttosto che dei programmi ad hoc per attrarre le aziende estere. Certo, grazie. Io aggiungo soltanto due temi. Uno sull'attrazione. Adesso qui gioco in casa. Noi, se confrontiamo la nostra capacità di attrazione di studenti stranieri, quello che facciamo per attrarre gli studenti stranieri, rispetto a quello che fanno altri paesi, e probabilmente capiamo che abbiamo moltissimo da fare. Noi come Politecnico siamo assolutamente un'isola felice su questo, ma se prendiamo l'insieme delle università italiane, anche in Francia non sono soltanto tutti Politecnici, però in Francia hanno una struttura che si chiama Campus France, che è finanziata in modo paritetico dalle grandi corporation francesi e soprattutto dallo Stato e dal sistema delle Camere di Commercio, presidia di fatto la vendita del sistema delle università in francesi in giro per il mondo. E la stessa cosa lo fa per i licei, e gli inglesi in questo sono probabilmente ancora più avanti. E questo sicuramente è una delle cose su cui devo dire sta aumentando la sensibilità, quindi continuando ad attrarre sempre più studenti internazionali il paese si sta muovendo, però anche qui probabilmente abbiamo un po' da fare. L'altra cosa che io invece vedo come un terreno molto fertile per una collaborazione pubblico-privato è legato al grande tema dell'imprenditoria, no? Cioè l'innovazione probabilmente da sola non basta, no? C'è bisogno sì di innovazione, c'è bisogno di... però c'è anche bisogno di imprenditori, C'è bisogno di persone che Enrico Zio inventa una nuova tecnologia, ha bisogno poi in qualche modo di trasformare quest'idea in un prodotto, no? Vendibile sul mercato, no? Ecco, oggi soprattutto nel momento in cui noi andiamo ad affrontare i temi dell'imprenditorialità che è legata a prodotti altamente tecnologici, no? che poi sono quelli che normalmente caratterizzano il Politecnico di Milano, no? Anche qui ha una storia d'eccellenza che va indietro, no? A 160 e passa anni fa. Però che cosa ci troviamo? Ci troviamo che c'è un mondo molto fertile dal punto di vista di idee nella università, progetti europei, tantissimi programmi di fatto di sostegno, grant che arrivano per stimolare queste competition e quant'altro e quindi c'è una grande generazione di un flusso di idee che nasce dalle università e dai centri di ricerca. Dall'altra parte la novità di questi ultimi anni è che anche in Italia finalmente sono arrivati dei capitali, no? disposti a fare venture capital, no? e fondi che fanno investimenti in queste start-up in questo team. Qual è il problema? Il problema è che se escono mille idee queste mille idee hanno una grande percentuale di mortalità ovviamente non tutte sono buone per poter dimostrare che queste idee sono tecnicamente valide c'è bisogno di tantissime risorse perché sono idee tecnologicamente complesse quindi che richiedono laboratori che richiedono tanta tecnologia e tante competenze come su tanto un'università tecnica d'eccellenza probabilmente può fare ecco il privato oggi ancora è un po' restio a investire su queste su questa fase ancora embrionale su fare questo investimenti in fase pre-seed perché evidentemente sono tanti investimenti con una bassa probabilità di successo del singolo e il pubblico non ha le risorse per farlo allora il pubblico indese è la singola università e quindi di nuovo qui sarebbe necessaria un'operazione di sistema adesso stanno arrivando i vari strumenti di cassa depositi e prestiti del MIS eccetera eccetera io vedo personalmente anche qui una ottima opportunità nel momento in cui questi strumenti sono indirizzati correttamente e non sono one size does not fit all e non sono gestiti con una logica invece di dover più o meno accontentare tutti assolutamente d'accordo Andrea io vorrei approfittarmi di te se posso perché direi questo è proprio diventato terreno tuo in fondazione magari se posso approfittare di te in tre minuti racconti un momentino quello che fa fondazione anche proprio nel nuovo sviluppo nella nuova situazione attuale che si è preso in mano no grazie mi fa un grandissimo favore perché adesso non so quanti sono quelli collegati però penso di non perdere mi offrirai da bere Andrea mi offrirai da bere dai mi offrirai da bere di sicuro anzi stasera prendiamo un aperitivo milanese no perché fondazione ha una caratteristica che è abbastanza lasciatemi dire evidente che è poco poco nota io quando a fine del 2019 Ferruccio Resta mi ha detto bene adesso basta fare la gestione a business school vai a prendere in mano fondazione ho detto sì che bello ma che cos'è che fa fondazione notare che sono 35 anni che sono lavorato nell'85 quindi avevo un dubbio oggettivamente adesso la sto mettendo un po' in ridere ma fondazione per me è stata abbastanza una novità nonostante il fatto che appunto ha una lunga militanza all'interno del Politecnico e quindi immagino che per molti è un po' un oggetto misterioso la fondazione è un inter di servizio del Politecnico di cui Enrico Cereda tra l'altro fa parte del comitato scientifico quindi partecipa alla formulazione delle linee di dirizzo e fondamentalmente fondazione fa tre cose supporta l'Ateneo nelle sue tre missioni formazione didattica formazione studiata ricerca e trasferimento tecnologico facendo portando delle competenze che non sono delle competenze di contenuto perché quelle sono all'interno dei dipartimenti ma facendo il ruolo fatemi dire di system integrator quindi di project manager andando a quando ci sono grandi progetti su grandi temi che sono temi trasversali che quindi coinvolgono molti più dipartimenti fondazione fa questo ruolo di tenere assieme di fatto le competenze differenti del Politecnico lo stesso ruolo lo fa ribaltato in modo speculare verso le imprese quindi quando ci sono progetti di ricerca su uno di questi temi fondazione ha la capacità di andare a costruire dei partenariati quindi la prima cosa che fa fondazione è quella di gestire questi progetti di fatto su progetti multidisciplinari su temi che sono quindi di solito i grandi temi la mobilità l'energia e quant'altro e questo lo fa e qui entriamo nella seconda diciamo caratteristica di fondazione lo fa con una prospettiva che è sì domestica nel senso che si lavora col comune di Milano con la regione Lombardia e quant'altro ma però l'obiettivo è quello di esportare il più possibile il Politecnico di Milano e quindi fondazione è nata all'inizio di questo secolo e quindi si è specializzato inizialmente nella gestione dei progetti europei quello che stia cercando di fare adesso è il salto fuori dall'Europa quindi World Bank UN Habitat le altre diciamo istituzioni che gestiscono per esempio progetti su paesi che sono su aree che sono di interesse dell'Ateneo stile per esempio l'Africa questo supporto dell'internazionalizzazione lo fa non soltanto in termini di progetti ma anche gestendo delle partecipazioni strategiche dell'Ateneo per esempio quella fatta qualche anno fa con i cinesi della Tsinghua University e poi la terza cosa che fa fondazione è gestire PoliHub gestire PoliHub che è l'incubatore acceleratore del Politecnico ormai devo dire non soltanto del Politecnico perché nella storia recente il 50% poco più del 50% delle start-up che sono incubate in PoliHub vengono dal Politecnico di Milano ormai è diventato un place to go in generale per le start-up che cercano che vogliono avvicinarsi al Politecnico pur venendo da altre parti d'Italia e io spero prima della fine del mio mandato anche fuori dal nostro paese grazie grazie per questo spazio pubblicitario mi sembrava molto interessante perché quello che raccontavi sull'imprenditoria e su queste cose rientrava in quest'ultima parte di missione di fondazione mi sembrava opportuno che tu completassi un'informazione ecco se posso rimanere ancora 30 secondi un esempio di trasformazione di fondazione nella dovuto al covid fondazione è diventato il punto di riferimento per la finanza agevolata dei progetti del quindi perché sono nate tutta una serie di opportunità di bandi eccetera fondazione si è specializzata devo dire molto velocemente nella gestione di tutte queste opportunità che sono legate al covid opportunità di progetti di ricerca o di industrializzazione di prodotti devo dire che io lo sto vedendo anche come diceva Andrea dato che sono all'interno del comitato scientifico e quindi ho questa opportunità di vedere anche il mondo della fondazione e di come sta facendo i progetti che ha sottolineato prima Andrea sono progetti ovviamente non sono progetti di brevissimo termine sono progetti di medio lungo termine ma dal mio punto di vista sono ancora più importanti perché servono poi per la trasformazione di alcuni settori accenato adesso il covid ma pensiamo anche ad alcuni progetti sulla mobilità e tantissimi altri progetti che ci potrebbero essere in futuro la funzione poi del Poliab penso che sia riconosciuta non solamente nel nostro territorio ma in tutto il paese ma anche all'estero e quindi sta facendo delle cose eccezionali e quindi complimenti al lavoro che è stato fatto negli anni precedenti e adesso l'incarico che ha Andrea Bene grazie io vi permetto di fare un'ultimissima domanda poi aprirei le domande dei nostri colleghi che ci stanno ascoltando perché diciamo la parte innovazione l'abbiamo menzionata più volte fra l'altro il dottor Cereda anche credo per grande competenza ha accennato proprio ad alcuni elementi di innovazione importanti come il cloud computing il fog computing tutto il tempo brutto computing l'intelligenza artificiale il blockchain il quantum computing ecco che chiaramente sono degli strumenti e delle opportunità di sviluppo per la transizione digitale se doveste fare un technology foresight su queste particolari tecnologie quali vedete essere le più impattanti e su cosa ma allora prima abbiamo parlato di anche parlato di due tecnologie che sono quelle del library cloud del cloud e dell'intelligenza artificiale il library cloud permette il cloud permette è l'abilitante per quello che sta sopra per quello che è l'intelligenza artificiale io naturalmente vedo tutti gli aspetti dell'intelligenza artificiale molto importanti di nuovo in qualsiasi settore non c'è un settore che verrà escluso la sanità prima esatto non c'è nessun settore che verrà escluso dall'impatto dell'intelligenza artificiale e dal mio punto di vista di nuovo a noi non piace tanto parlare di artificiale ma ci piace parlare di intelligenza aumentata proprio perché l'intelligenza artificiale deve essere a disposizione degli umani del capitale umano di noi tutti e quindi deve essere vista non come un'intelligenza artificiale ma deve essere vista come qualcosa che ci aumenta la nostra la nostra intelligenza quindi forse anche il termine non è coniato negli anni nei decenni scorsi non è proprio appropriato però l'intelligenza è aumentata in qualsiasi settore prima ho parlato di sanità ma non solo nella sanità nel manifatturiero nella logistica pensiamo nel turismo pensiamo nel settore bancario dove viene ancora utilizzata in parte per la gestione del credito per la gestione dei rischi delle frodi eccetera sicuramente sono delle tecnologie avanzatissime che se applicate possono portare tantissimi tantissimi benefici e prima l'ho detto quando è iniziata questa pandemia l'Italia non è che era messa bene nei dati economici a me piace fare il paragone sempre della safety car quando è iniziata la pandemia è come se fosse uscita la safety car in formula 1 per chi conosce la formula 1 la safety car appiattisce le distanze ecco probabilmente questa pandemia ha appiattito un po' le distanze con gli altri paesi ora noi dobbiamo di nuovo utilizzando le tecnologie utilizzando il capitale umano fare un piano velocissimamente e cercare poi di portare dei progetti specifici all'interno del nostro paese prima ho parlato del pubblico e della trazione degli investimenti che forse non funziona così bene nel nostro paese e probabilmente non va dato neanche tutte le colpe al governo ai politici quelli attuali o quelli precedenti probabilmente anche noi come classe dirigente del nostro paese dobbiamo metterci in gioco essere a supporto del pubblico essere a supporto naturalmente anche del sistema universitario collaborare per portare il nostro paese a quello che viene definito il next level ma oggi ci sono tantissimi esempi comunque dove queste tecnologie vengono utilizzate noi nella blockchain abbiamo fatto alcuni progetti importanti ad esempio anche con il MISE quindi con il Ministero dello sviluppo economico per la protezione del brand del Made in Italy sull'indicenza artificiale abbiamo fatto un bellissimo progetto a mio avviso con il Cefriel e quindi il Cefriel è Fuggetta il professor Fuggetta è qualcosa che ricorda tutti gli studenti e naturalmente tutti i partecipanti di questa call stiamo parlando di un progetto sull'agricoltura per aumentare l'intelligenza nei trattori e quindi capire la potenzialità poi di questi strumenti e nella manutenzione predittiva piuttosto che nel raccolto piuttosto che nella temperatura per fornire tutta una serie di dati che aggregati messi assieme correlati possono dare dei valori aggiunti rispetto a quello che si fa normalmente quindi ci sono tantissimi esempi che abbiamo fatto recentemente in Italia ma sicuramente l'intelligenza artificiale deve essere a mio avviso pervasiva in qualsiasi applicazione ma non dobbiamo avere paura di queste tecnologie sono tecnologie che devono essere a supporto di noi come cittadini di noi come persone di business di noi come consumer devono essere a supporto per migliorare la nostra vita non per distruggere la nostra vita e quindi in tutto quello che facciamo dobbiamo metterci naturalmente anche dei principi etici e questo è fondamentale abbiamo letto negli ultimi giorni so se avete letto sui media alcune scorrettezze di alcuni player internazionali cosiddetti over the top ecco noi abbiamo stabilito anni fa i principi etici per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e a mio avviso sono principi che dobbiamo attenerci per portare avanti poi i nostri i nostri progetti certo grazie Andrea beh allora sull'etica fatemi dire quello che stiamo pensando di adottare come payoff di Poliad è un'anteprima che è innovation without sustainability is not innovation quindi alla fine Andrea comunque ti manderò via email appena finito questo meeting i nostri principi etici quindi magari ti possano essere però il soffizio mi piace parecchio abbiamo anche i valori etici e Politecnico assolutamente aggiungiamo per definizione cioè ovviamente essendo noi università pubblica qualsiasi cosa che facciamo come università come fondazione come Poliab come Business School come tutto quello che ruota tutto l'ecosistema del Politecnico adesso poi è troppo sono troppe le unit per citarle tutte ovviamente non ha come finalità alla fine il il margine o il valore per gli azionisti perché poi alla fine siamo pubblici e quindi è fondamentale per noi come valore finale quello che è il purpose che alla fine ci muove è l'impatto l'impatto sociale l'impatto di qualsiasi comunque lo andiamo a misurare l'impatto sulla comunità il tempo la comunità era Milano poi è diventata la Lombardia poi il paese oggi probabilmente abbiamo anche l'aspirazione e l'ambizione di avere un impatto che travalica i confini della nostra nazione quindi anche qui non posso che essere d'accordo di fatto con questa visione che l'innovazione tecnologica comunque non deve non può permettersi di perdere di vista i principi principietici adesso poi c'è l'intelligenza artificiale ma nel mondo della diciamo delle scienze che permettono di fare clonazioni o cose del genere probabilmente ancora di più magari professore faccio anch'io una pubblicità progresso come si diceva tempo fa per chi vuole conoscere i progetti che stiamo facendo con i clienti anche sull'intelligenza artificiale sul cloud sulla blockchain abbiamo un magazine cartaceo ma ce l'abbiamo anche un sito internet quindi uno su google digita IBM Think Magazine IBM Think Magazine trova tutti i nostri progetti anche dei temi interessanti come indirizzare lo skill gap piuttosto ai progetti che mi riferivo io prima per quanto riguarda P-Tech il mondo universitario e per quanto anche riguarda la formazione dei lavoratori va bene grazie dopo questi stacchi pubblicitari aprirei a questo punto alle domande che sono pervenute sulla chat comincerei porrendo questa domanda su quali industrie hanno ancora bisogno di nuovi lavoratori e neolaureati per fronteggiare questo cambiamento non solo informatica e IT ma quali altre si vede che hanno grosse esigenze di nuovi laureati nuovi lavoratori e tu Andrea vado io inizia tu poi ma io penso che in tutte le industrie quello che sto vedendo e a mio avviso forse si sta riducendo che da una parte ci sono i tecnici gli informatici gli esperti di tecnologie e da un'altra parte ci sono quelli che conoscono l'industria che conoscono le banche che conoscono la logistica che conoscono la sanità che conoscono il turismo e certe volte questi due mondi fanno fatica a colloquiare i tecnologi parlano un certo linguaggio qui conosci l'industria ne parla un altro ecco quello che dobbiamo fare è cercare non di avere un colloquio tra estranei diciamo ma di portare le tecnologie a una a un discussione molto più semplice e soprattutto poi permettere di avere delle figure che conoscono sia la tecnologia che conoscono sia le potenzialità della tecnologia e naturalmente anche l'esperienza di industria però io penso che in tutte le industrie non ci sarà un'industria che non sarà che non sarà toccata dall'innovazione tecnologica qualsiasi qui naturalmente lo skill gap c'è ma di nuovo la collaborazione pubblico privato la capacità di fare sistema a mio avviso farà la differenza grazie Andrea aggiunge qualcosa io ho lasciato che il tutte lo dicesse Enrico perché se no mi poteva sembrare di parte producendo laureati ma io sono assolutamente d'accordo con con questa diciamo necessità a 360 gradi non mi dimenticherei attenzione il mondo della pubblica amministrazione noi dobbiamo trovare un modo per rendere il mondo della pubblica amministrazione appealing per i nostri giovani laureati perché questi processi di digital transformation richiedono capitale umano in grandissima quantità e poi dopo non ci possiamo ovviamente lamentare se non facciamo qualcosa per scardinare questo fatto che nella pubblica amministrazione quelli bravi non ci vanno mettiamola così quindi io penso che sia fondamentale riuscire a lavorare sul come dicevo prima una sfida strategica di lungo periodo è quella delle STEM la seconda sfida strategica è quella di rendere la pubblica amministrazione appealing per i nostri cervelli brillanti e qui forse c'è anche un'altra parola magica che è l'inclusività in tutto quello che facciamo a maggior ragione quando parliamo di nuove tecnologie dobbiamo essere inclusivi non dobbiamo essere esclusivi e quindi qualsiasi settore qualsiasi persona qualsiasi ente però dobbiamo lavorare in ottica di essere inclusivi in tutto quello che facciamo grazie altra domanda si è discusso per anni quale modello di governo della politica industriale sia più adatto se centralizzato distribuito pubblico privato come governare il rischio della necessità di indovinare e guidare le molte iniziative stimolate dall'esigenza come mettere in ordine le priorità ed infine direi per Andrea qual è l'università che ruolo diciamo si sente e in che ambito ma qui torniamo al discorso quali priorità quali azioni eccetera a mio avviso di nuovo dobbiamo avere una bussola dobbiamo avere una bussola e seguire questa bussola puntare l'ha detto prima bene Andrea su alcuni settori e su questi settori partendo dalla scuola media superiore arrivando all'università e poi naturalmente al mondo del lavoro cercare di fare una catena per allineare tutte le risorse su alcuni settori predefiniti ovviamente il manifatturiero non dobbiamo escluderlo essendo comunque uno dei più importanti paesi a livello europeo e a livello mondiale è la nostra storia ma sicuramente dobbiamo puntare su altri su altri settori io tra l'altro ho la responsabilità in Assolombarda che è la territoriale di confindustria per quanto riguarda Milano Monza Brianza Lodi e Pavia dell'internazionalizzazione ci sono dei settori nel nostro territorio importanti tipo Life Science i servizi ci sono alcuni settori che invece fanno meno fatica dove probabilmente noi come paese giochiamo un ruolo meno rilevante ecco puntare su alcuni settori renderli prioritari e poi allineare tutto il mondo scolastico universitario in modo da formare poi delle persone che siano che siano orientate verso certi settori merceologici però a mio avviso è un piano di nuovo è una bussola che è fondamentale ne abbiamo bisogno quanti anni che non abbiamo un vero piano industriale del nostro del nostro paese però di nuovo come classe dirigente non possiamo sottrarci dobbiamo anche noi fare la nostra parte aiutare il mondo politico a prendere le giuste decisioni Andrea in questa in questa bussola l'università che ruolo si sente si può prendere beh ma secondo me l'università dovrebbe prendersi la responsabilità di orientare i policy maker quindi dovrebbe contribuire a questo non dovrebbe essere passiva aspettare che no assolutamente ma dovrebbe dare il suo contributo insieme a tutte le parti che sono ovviamente da coinvolgere contributo fattivo quindi perché non andare a chiedere un'università di fare un studio per scegliere quali sono questi settori eccetera e poi uno ovviamente si prende la responsabilità di farle di quello che dice io l'unica cosa su cui non ero d'accordo con la domanda era l'incipit dove si diceva da tanti anni si discute che io sinceramente non me ne sono accorto me ne sono accorto poco io penso che uno dei grossi problemi che ha avuto il nostro paese è stato che non so fare non so collocare l'inizio ma a un certo punto ci si è dimenticati di fare politica industriale e si è lasciato e non si sono sviluppate per colpa di questa dimenticanza quelle che potevano essere delle opportunità incredibili il turismo il cibo eccetera su cui altri paesi che hanno un millesimo delle nostre risorse hanno fatto la fortuna e quando ero in Cina una cosa che mi faceva andare fuori di testa è che al supermercato nel come si chiama nei banchi dei cibi import food l'olio era spagnolo come l'olio spagnolo l'olio d'oliva spagnolo il vino lasciamo perdere è meglio ecco tutte queste cose qui sono frutto del fatto che noi abbiamo lasciato noi tutti come diceva prima Enrico siamo fatti un passo indietro siamo stati nella nostra comfort zone il nostro piccolo che è bello che ci ha impedito di raggiungere la massa critica che ci permettesse di poi scalare dal livello provinciale nazionale europeo è globale la stessa cosa secondo me rischiamo di farla nel momento in cui per mantenere buoni tutti distribuiamo le risorse a pioggia invece che andare a distribuire a quelli che possono essere i poli di aggregazione che siano università d'eccellenza settori industriali eccetera è un momento probabilmente in cui non possiamo permetterci più di non fare scelte quindi ancora una volta facciamoci destinati a soccombere va bene quindi fare ancora una volta fare sistema anche soprattutto per fare le scelte benissimo parliamo di PMI che sono già alle prese con un evidente dissesto economico abbastanza importante non rischiamo di ramanere indietro nella transizione digitale dove possono attingere le risorse per innovarsi digitalizzarsi di formare le proprie risorse umane e il proprio capitale umano questo è sicuramente un rischio anche perché il 94% delle nostre aziende sono piccole e medie imprese l'Italia il tessuto economico italiano è fatto da piccole e medie imprese quindi sicuramente questo è un rischio che coriamo però dobbiamo pensare anche a mio avviso che le piccole e medie imprese sono quelle che più possono sfruttare in questo momento le innovazioni tecnologiche pensiamo solamente alla capacità e l'abbiamo vista nel corso degli ultimi 6-7 mesi di portare i prodotti all'estero grazie al digitale grazie all'e-commerce ecco qui probabilmente di nuovo l'ho accennato prima il programma che stiamo facendo in IBM Regnite per formare gli imprenditori e naturalmente i lavoratori anche delle piccole e medie imprese qui serve una nuova cultura un nuovo mindset anche per l'imprenditore della piccolissima azienda del territorio più sperduto in Italia però siamo di fronte a a un discorso che o le aziende soprattutto post-covid diciamo o le aziende avranno avranno successo o le aziende avranno tantissimi problemi io vedo io vedo soprattutto nel corso dei prossimi mesi chi sta andando bene andrà sempre meglio dal mio punto di vista e chi sta andando male andrà sempre peggio e la differenza tra quelli che stanno andando male e quelli che stanno andando bene oltre la lungimiranza la convinzione la consapevolezza cose che ho detto prima capacità imprenditoriale ovviamente sì ma anche l'investimento in tecnologie che queste aziende hanno fatto o non hanno fatto nel corso degli ultimi anni investimenti in tecnologie che poi hanno portato dei risultati però è una combinazione di fattori capacità umana capacità imprenditoriale ma di nuovo anche l'utilizzo delle tecnologie che permettono comunque di stare di stare sul mercato ed è evidente che per qualsiasi azienda oggi in Italia non solamente per la grande azienda anche per la piccola azienda oggi il territorio italiano è troppo piccolo oggi per stare sul mercato bisogna andare all'estero e bisogna andare all'estero naturalmente con dei prodotti con dei servizi è anche una capacità distributiva che deve offrire tutti i vantaggi che oggi il digitale porta Andrea io penso che se non vuoi soccombere e non hai fatto gli investimenti nel passato l'unica cosa che può permettere di sopravvivere è aggregarsi aggregarsi cercare di fare massa perché il piccolo oggi purtroppo non è bello il piccolo è ahimè l'anticamera della fine dell'avventura imprenditoriale allora soprattutto perché molto spesso il prodotto non è il prodotto di una start up nuova eccetera ma è un prodotto magari già consolidato e che si trova anche in giro in altri paesi allora io penso che sia fondamentale l'aggregarsi io porto un esempio che per me è bellissimo nel polo di Lecco è stato costituito grazie alla collaborazione tra università territorio eccetera una struttura che si chiama JRC Joint Research o JRL Joint Research Center o Joint Research Lab adesso sinceramente non me lo potrei sbagliarvi tra i due sul filo di ferro quindi aziende del settore tutte di dimensioni all'Ecco non ci sono giganteschi i colossi grandi imprese che si sono messi assieme per riuscire a mettere a fattor comune progetti di ricerca progetti di sviluppo affidandosi in questo caso al Politecnico la stessa cosa si può fare per quello che riguarda affidandosi ovviamente ad altri partner per quello che riguarda la digitalizzazione la trasformazione e di nuovo alle università per quello che riguarda la parte di supporto alla creazione delle competenze poi che permettono di utilizzare queste tecnologie grazie allora abbiamo parlato della capacità di Milano di fare impresa come centro economico finanziario industriale direi capacità dimostrata sul campo certamente nell'era pre-Covid secondo voi come ne uscirà la città visto che c'è comunque anche un forte flusso di emigrazione da parte dei residenti che fungono alla città ma io di nuovo forse perché ho una visione positiva ma questa è una città che si sa riprendere in fretta Milano tra l'altro poi ormai mancano cinque anni ci saranno le limpiadi quindi ci saranno anche degli importanti appuntamenti e soprattutto vedo che la pandemia si ha creato naturalmente tanti problemi a livello economici di nuovo lo vediamo dagli indicatori del PIL della disoccupazione eccetera e naturalmente anche sociali ma a mio avviso la ripresa sarà molto veloce quindi così come siamo scesi a livello paese così a mio avviso saliremo appena notizia anche di ieri ci sarà un vaccino e quindi è stato annunciato e di questo ne sono convintissimo a maggior ragione una città come Milano è scesa parecchio negli ultimi mesi con tutti i dati economici ma io sono sicuro che nelle prossime settimane nei prossimi mesi salirà naturalmente appena appena ci saranno delle notizie confortanti sulla pandemia ci sarà un balzo importante nel nostro nel nostro paese e nella nostra città poi tante persone sono uscite ma io non vedo tante persone che sono uscite ho visto nella prima fase tante persone che hanno utilizzato la seconda casa sì però di persone che in questi 6-7 mesi hanno preso la loro abitazione l'hanno venduta e sono usciti sicuramente ce ne saranno stati però non ne vedo non ne vedo così tanti ed è una città anche in questo periodo mi avviso sempre attrattiva Milano su cui è il posto è il place to be si dice sicuramente in Italia ma devo dire anche a livello europeo parlando con i miei colleghi Milano tutti la vedono come la città da visitare ma anche la città da viverci e quindi e sono sicurissimo che sarà così anche nel corso dei prossimi anni se posso aggiungere io su questo sono positivissimo non positivo ma per parto con una battuta dopo l'influenza spagnola ci sono stati i ruggenti anni venti quindi e nei ruggenti anni venti c'è stato la musica le arti tutto che hanno completamente cambiato marcia allora Milano è sempre stata nella sua storia una città che ha comunque anticipato le tendenze e che ha una capacità comunque di attirare cervelli e di metterli a lavorare insieme in qualche modo creando creando una città della creatività che nessun'altra città ha sicuramente nel territorio nazionale poche ce l'hanno al mondo Milano ha un vantaggio in più rispetto alle altre che è la dimensione e quindi è una città dove è facile fare il paradigma della città dei 15 minuti perché non devi attraversare non devi fare una distanza non sei come a Shanghai o anche a Parigi e Londra dove comunque la distanza è estremamente significativa e quindi trovi tutto comunque a portata di 15 minuti magari no ma andiamo 25 comunque la seconda cosa è una strutturazione in cui proprio l'urbanistica di Milano è fatta da cortili e i cortili sono per loro natura luoghi di aggregazione e di condivisione nel momento in cui la gente va meno in ufficio se ne sta più a casa trova altre modalità di aggregazione che sono come si dice nuove e innovative attenzione Milano per di più si trova nella situazione in cui proprio per il fatto che ci sono c'è meno bisogno di edilizia uso ufficio sta affrontando un po' un rimbilanciamento alcune zone di Milano diventano molto più accessibili con un edilizia di tipo abitativo e quindi io non sono così convinto che c'è una fuga di c'è una possibilità per persone di venire a vivere a Milano a prezzi che prima erano assolutamente unaffordable e li obbligavano a starsene fuori dalla cerchia dei navigli dal 90-91 e dal perimetro del comune quindi io vedo Milano ancora come ovviamente la capacità di fare il suo ruolo di calamita che attrae alla fine talenti e attenzione il fatto che se una città attrae talenti si tira dietro le imprese perché le imprese poi vanno a localizzare i propri uffici i propri quartieri generali eccetera eccetera dove i talenti vogliono stare Procter & Gamble a Sissi Nati io non c'è neanche a parte questi casi rari che comunque sono dall'altra parte dell'Atlantico nel nostro continente Europa le imprese vanno a localizzarsi dove i loro manager poi hanno piacere a vivere alla fine quando poi passiamo in settori come il lusso il fashion e quant'altro il design che sono quelli che hanno fatto grande Milano questo addirittura diventa una verità di fede probabilmente il 40% del multinazionale estere hanno l'Atquorter a Milano ci avete convinto torneremo nella grande Milano nella città metropolitana diciamo che siamo siamo nella grande Milano infatti vi faccio l'ultimissima domanda e poi chiudiamo perché vi ho rubato fin troppo tempo l'innovazione tecnologica sui principi e sull'etica l'abbiamo già parlato però in Italia per il suo sviluppo non può ignorare la macchina burocratica italiana secondo voi quali sono i maggiori vincoli burocratici in Italia che rischiano per rallentare questo avanzamento della tecnologia? ma sono i rischi li abbiamo accennati anche prima prima di tutto dobbiamo essere inclusivi quindi non dimenticarci la pubblica amministrazione se abbiamo le aziende private diciamo tutte perfette dal punto di vista di digitalizzazione la pubblica amministrazione lasciamo allo stato attuale evidentemente anche le aziende private non ne beneficiano in toto dalla digitalizzazione quindi l'inclusione sicuramente dobbiamo mettere i talenti lo diceva Andrea prima all'interno della pubblica amministrazione e i talenti oggi non sono così willing diciamo utilizziamo l'inglese non vogliono andare all'interno della pubblica amministrazione quindi dobbiamo cercare sempre di più di portare i talenti all'interno della pubblica amministrazione perché abbiamo bisogno tutti di fare questo cambio di passo questo cambio di passo all'interno della PA e qui naturalmente a mio avviso le università e il Politecnico giocano un ruolo fondamentale su questo non c'è ombra di dubbio in questa trasformazione che dobbiamo affrontare come paese naturalmente i talenti e naturalmente dobbiamo avere anche dei manager all'interno della pubblica amministrazione che capiscano le potenzialità della digitalizzazione e soprattutto della revisione dei processi della PA perché poi se applichiamo le tecnologie che ho parlato prima dell'intelligenza artificiale del cloud ma teniamo i processi organizzativi così come sono oggi poco cambia nulla cambia allora è sì tecnologia ma è anche una revisione dei processi della pubblica amministrazione di nuovo qui è una combinazione tra innovazione e capitale umano Andrea due bit un tema di responsabilità che molte volte soprattutto nel pubblico è difficile da prendersi per un framework di tipo legale che sembra fatto apposta per favorire la burocrazia e non per snellirla quindi probabilmente riuscire a mettere a posto i processi una delle condizioni fondamentali poi identificare chi è responsabile di un processo quindi che deve essere misurabile eccetera eccetera questo non soltanto devo metterci lì un talento ma devo metterci lì anche un talento che comunque poi non rischi l'appello ogni volta che metto una firma e quindi che dal punto di vista fatemi dire legale almeno abbia la contezza di quello che sta facendo nel momento in cui metto una firma oggi purtroppo molto spesso c'è un'indeterminatezza che spinge poi ovviamente il decisore a stare in una posizione di cautela di autoprotezione allora signori io grazie a quanto c'è stato condiviso dal dottor Cereda amministratore delegato di Bia Italia del professor Sianesi professore Poitecni Milano e chairman della fondazione Poitecni Milano mi permetto di cambiare il titolo leggermente dicendo l'Italia che verrà grazie all'innovazione con il nostro capitale umano sarà un'Italia piena di opportunità ci sono tante sfide le abbiamo capite c'è un'esigenza di etica c'è un'esigenza di formazione c'è un'esigenza di inclusione quindi anche aspetti non necessariamente tecnologici direi che noi siamo tutti qua perché vogliamo affrontare queste sfide e realizzare veramente un'Italia che verrà che sia bella e che sia l'Italia che vogliamo ringrazio infinitamente ancora una volta il professor sianese e il dottor Cereda per il loro contributo mi permetto di dire che è stato un grande evento lo dico soltanto perché ho letto i commenti che sono arrivati nella chat ringrazio chiaramente anche tutti i partecipanti tutti gli alumni perché senza la loro partecipazione noi non avremmo fatto l'evento saremmo stati noi tre forse a chiacchierare un pochettino di varie cose con questo io vi saluto e vi ringrazio infinitamente grazie grazie mille salve professore ciao Enrico ciao Enrico molto piacere grazie a tutti grazie a tutti